Sì, ci manca anche questa. Qua facciamo i bloopers. E qua stiamo fino alle 7 di sera. Pronto? Non so come ci si prepara. Stop! Guardali, guardali. Stai girando, tra un po' siamo lì che li guardiamo. Ma che ce l'ha con gas? Aspetta, fammi pensare ai termini in inglese però. Vabbè, buona notte, vai termini. Roma termini. Il ponte termico, come si dice? Stai girando. Il ponte termico. Non penso proprio. Proviamo. Posso andare? Ok. Ok. Stop. Ok. They also have a certificate. And it's done. 8 millimetri. Molimetri. Special PVC that doesn't contain, contain, contain. Pua. Stai zitto. Ok. Ok. Manof, vai da marina. Vai a Farangola. Vai a Farangola. Ok. Ok. Already available. Already available. VW di For... Trapo lungo. For... Ciao. Ciao. Dovi finirla lì. Many other kind of... Ok. Of course, if you don't have... And... And your website. Prima c'avevi gli occhiali, però... No. Mai avuti su. Te lo giuro. Bella consona. Ah, che devi fatta, Emilia? Eh? Eh, fai te. Ah, devo fare io? Eh. Ah, scusa... Pronto! Questo va tutto dei bloopers. Cos'è? I bloopers. I tagli. Director's Cut. C'è qualcuno? Ok. Vai! Vai!